Lo studio Trifirò in Parnes Avvocati, fondato a Milano negli anni 60 dall'avvocato Salvatore Trifirò, è un'icona e una tradizione dell'attività forense a Milano. TMP dispone di una prestigiosa biblioteca giuridica di oltre 10.000 volumi, sia cartacea che digitale. Conta un team di 80 professionisti e collaboratori ed una rete internazionale di studi legali qualificati. Lo studio deve la sua fama all'esperienza plurienale nel campo del diritto del lavoro, ma i servizi legali coprono oggi anche numerose aree del diritto civile. Organizza convegni, produce contenuti specializzati per i maggiori quotidiani ed ogni anno lo studio presenta gli highlights che riportano approfondimenti, novità legislative e giurisprudenziali. Inoltre, ha ricevuto nel corso del tempo numerose riconoscimenti di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale. Grazie a tutti! Grazie a tutti